Guarda che tra qualche giorno si riparte. Ad Haiti la situazione si è stabilizzata, quindi... Ancora dubbi? No, no, anzi, Haiti me li ha tolti tutti. E allora? Qual è il problema? Solo qualche... arrivederci pesante da dire. Che ad Haiti la situazione si è stabilizzata e quindi... riparto. Luigi? Non gliel'ho ancora detto. Dovrei partire per Haiti. E quando? Domani mattina. Cioè, pensavi di scappare senza dirmi niente? No, no, te l'avrei detto stasera, lo sapevo. Non pensavo che l'idea di lasciare te e Filippo mi avrebbe fatto stare così tanto male. Fede a me e Gemma hanno abbandonato una volta. Ma da te non me lo sarei mai aspettato. Per favore. Senti, non si può cominciare una relazione a distanza con queste premesse. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie per la visione!